Antonio Di Gaetano, sono tanti anni che Massimo Boscatto continua a ripetermi questo ragazzo qui ha il potenziale per fare il grande salto, per diventare un giocatore vero è anche vero che però passano gli anni, è arrivato il momento di concretizzare, di farlo questo salto di qualità ti senti pronto? Sì, è la verità, quest'anno sì, rispetto agli anni scorsi che ero meno convinto le mie potenzialità, però quest'anno penso di andare in Austria, giovedì prossimo a provare di vendere qualche punto ATP per entrare nelle qualificazioni quindi per entrare nel giro dell'internazionale e del circuito Ma tu hai girato già tanto, hai giocato anche a livello internazionale stando alle tue sensazioni, cosa ti manca davvero per fare il salto di qualità? Mi mancano partite a livelli alti, perché ho giocato pochissime mi manca la mentalità vincente in campo e lo spirito di sacrificio che penso sia la cosa più importante per un tennista di un livello alto Qui c'è Massimo Boscato, c'è Giacomo Pirozzi, c'è il giovane Sanges che rispetto a voi deve ancora crescere Cosa ti senti di poter imparare da Boscato? Tanto, mi ha dato tanto oltre ad essere un grande maestro, un grande uomo per me è come un padre lui mi dà tutta l'esperienza che lui ha raccolto in questi anni tennistici e spero di raccogliere più presto Facciamo così, poi ci salutiamo perché tra l'altro partirai per l'Austria l'hai detto da poco Qual è l'obiettivo che ti proponi per questa tournée? Poi magari ci rivedremo quando sarà finita, quando sarai ritornato A cosa punti? A prendere qualche punto ATP per giocare le quali e quindi entrare direttamente nei tabelloni a circuito internazionale sono fiducioso, spero che andrà bene ci rivedremo presto Descrivi il giocatore che è Antonio Di Gaetano Qual è l'identikit? Gran dritto rovescio solido mi muovo molto bene in mezzo al campo ma in avanti faccio un po' fatica e per l'altezza che ho servo anche Benino quindi diciamo che me la cavo Hai già una discreta esperienza internazionale qui facevi riferimento poc'anzi Cosa manca? Cioè cosa ci vuole un giocatore come te per poter raggiungere un determinato step e mantenerlo? Guarda innanzitutto non avere mai problemi fisici perché quelli comportano poi degli stop che ti fanno perdere tanti tornei quindi io non sono mai riuscito a giocare 25 tornei in un anno non ho mai fatto una stagione piena però comunque ho preso 10 punti ATP giocando solo 12 tornei l'anno è la continuità il segreto di stare lì, provarci sempre viaggiare molto tutte le settimane questo comunque fa la differenza e comunque avere un buon coach una persona di cui ti fidi e che posso anche insegnarti Eh sì Un'ultimissima cosa poi ti liberiamo se dovessi fare l'identikit del Giacomo Pirozzi giocatore che giocatore è? Guarda non sembra perché io sono alto un metro e novanta comunque ho caratteristiche da un giocatore comunque di basso perché ho appunto tutto sulla corsa buon servizio buon servizio, un buon rovescio ogni tanto vado a rete non sempre dovrei andare un po' di più però diciamo che corro molto questa è la mia caratteristica principale Marco Sanges vedi ti tocca anche questo ruolo sei il più giovane sei quello che deve crescere in termini di classifica sei quello che deve imparare tanto dai giocatori più esperti e sei anche quello che deve sopportare gli sfottò eh sì soprattutto gli sfottò però diciamo vengo sempre con piacere gli allenamenti li trovo molto utili mi sento molto migliorato nell'ultimo periodo come obiettivo prima di tutto è mettercela tutta poi i risultati vengono da soli questo me lo dice sempre Massimo l'importante è mettercela tutta poi i risultati vengono da soli io spero di entrare nei primi 100 a TP guarda che rosa che hai di Gaetano, Pirozzi Boscatto che è un attimo dentro certo da ognuno di loro che cosa vorresti imparare che cosa vorresti prendere da ognuno di loro di Gaetano il dritto di Giacomo la costanza la forza mentale e da Massimo il bec e l'astuzia quadro completo allora prossimo torneo prossimi impegni adesso volevo andare a San Marino stavo cercando di convincere anche a loro due di portarli con me San Marino è un challenger si terrà l'8 agosto ci provi ci provo si ho fatto fare esperienza